Un parto travagliato e interminabile, ma alla fine il cantiere è nato. Ci pensa la pioggia, a fare da brindisi all'avvio dei lavori per la realizzazione della rotatoria incontro a Dariano Orpino. Progettista dell'opera, l'ingegnere Lorenzo Candelberg, direzione lavori affidata a Giuseppe Corsano, responsabile unico del procedimento Raffaele Ciasullo. L'importo del progetto è di 275 mila euro. Lavori affidati all'impresa Ciasullo da concludersi il prossimo 8 dicembre. L'aria è stata recintata, risolti tutti gli aspetti pratici inerenti, le proprietà private è uno degli ostacoli maggiori di questo lungo ritardo. Nei mesi scorsi Giovanni Lavita, consigliere comunale di minoranza, aveva presentato su quest'opera un'interrogazione al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici e al responsabile ufficio patrimonio, nella quale chiedeva di essere messo a conoscenza di eventuali fatti ostativi che avevano determinato concretamente il ritardo nell'avvio dei lavori nel corso degli anni rispetto agli impegni programmati. Il nulla osta da parte dell'ANAS è arrivato ad ottobre 2011, ma dei lavori lungo la statale 90 delle Puglie, neppure l'ombra, nonostante le pressioni e l'impegno di Raffaele Ciasullo. A nulla erano servite le denunce di automobilisti e operatori commerciali. La realizzazione della terza rotonda lungo la statale 90 delle Puglie è attesa da anni. In molti avevano addirittura perso ormai ogni speranza per l'enorme ritardo dovuto soprattutto allungaggini burocratiche. In progettazione preliminare vi sono ancora altri due rotatori da realizzare in località Maddalena e Petrara Fontana Nuova, altri due punti critici ad alto rischio incidenti lungo la statale 90 delle Puglie. Chi non ricorda proprio qui la tragica morte dei coniugi Campagna, investiti in piena notte all'uscita dal ristorante? Un incrocio maledetto che va ad aggiungersi ai tanti punti insidiosissimi della statale 90 delle Puglie, che negli ultimi vent'anni hanno causato oltre una decina di morti. La rotatoria potrebbe finalmente restituire sicurezza a questa arteria.